Il segreto Il segreto, trame italiane, Ulpiano vuole uccidere Carmelo, ecco il motivo Nelle prossime puntate di Il segreto in onda su Canale 5, Carmelo sarà uno dei protagonisti assoluti. Il Lel verrà eletto nuovo sindaco di Puente Viejo e qualche settimana dopo inizierà ad organizzare il suo matrimonio con Adela. La maestra e il Lel, però, inizieranno a domandarsi se rivelare ad Ulpiano come è morto veramente suo padre. Il ragazzo, che per il momento è lontano dalla Spagna, è all'oscuro di tutto, ovvero che è stato il braccio destro di Severo ad uccidere il suo caro. Quindi Carmelo e la sua futura moglie, di comune accordo, decideranno di non rivelargli nulla. Sarà la scelta giusta? Ulpiano torna in paese per il matrimonio della madre con Carmelo in occasione del matrimonio della madre, Ulpiano le farà una sorpresa tornando a Puente Viejo. Ovviamente il giovane sarà entusiasta nel vedere la donna felice e, allo stesso tempo, ringrazierà Carmelo per tutto quello che sta facendo per loro. Francesca verrà a conoscenza del ritorno del figlio di Adela e deciderà di vendicarsi. La Montenegro è intenzionata a rovinare per sempre l'esistenza dell'El, così invierà un bigliettino anonimo al giovane in cui viene indicato di presentarsi al di fuori del paese. A quel punto, il diretto interessato si recherà sul posto e li incontrerà la Dark Lady. Quest'ultima, senza giri di parole, gli racconterà tutta la verità. Il ragazzo scopre la verità sulla morte del padre e vuole uccidere l'El, la matrona di Puente Viejo gli rivelerà che a sparare al padre Leonidas è stato Carmelo. Naturalmente la donna gli dirà una verità distorta in modo da mettere il ragazzo contro l'El. A quel punto il piano si precipiterà in paese e affronterà in suo futuro patrigno. I due protagonisti avranno un acceso scontro verbale e il talavera, disperato, fuggirà di casa. Qualche ora dopo, Carmelo lo raggiungerà nell'abitazione di Mattias Castaneda, ma lì avranno un'altra brutta discussione. Il ragazzo, fuori di sé, scapperà nuovamente, prima di recarsi a casa di Carmelo, dove gli punterà contro un'arma da fuoco. Il piano lo ucciderà? Le anticipazioni ci rivelano di no, per fortuna il giovane abbasserà la pistola e chiederà alla madre di annullare le nozze. Adela ascolterà il consiglio del figlio? Per ulteriori informazioni e spoiler sulla telenovela iberica in onda su Canale 5, vi consigliamo di cliccare sul tasto Segui sul canale Cancelletto il segreto posizionato sotto il titolo principale di quest'articolo. B A Grazie a tutti